Doriano Bindi è molto tuo questo scudetto, diciamo la verità, nel senso che sotto 2-0 portare la squadra così concentrata a Rimini e giocare praticamente 18 inning perfetti tra gara 4 e gara 5, insomma, il manager qualcosa c'entrerà? No, io non c'entro niente, abbiamo parlato prima di quella squadra che questa è la vostra partita, hanno vinto loro a merito suo, il grande Magren che in 2-3 giorni ha fatto 200 e 29 lanci, lo chiamano Mr. Klob. Sì, ci sono poche parole per definire Magren, ma come siete arrivati a scegliere lui? Lui va da lanciare tra tutti i costi, abbiamo parlato, già mi diceva quando abbiamo vinto la prima partita, mi ha detto lanciare il quinto se arriviamo, allora do retta ai giocatori.